Andiamoci a cerciare, ci muoviamo un po', abbiamo anche visto quegli organizzazioni, quegli organizzazioni di gruppi speciali, uno, due, tre e quattro! Oh sì, oh no, che differenza fa, oh sì, oh no, il mare è ancora qua, oh sì, oh no, che differenza fa, oh sì, oh no, il mare è ancora qua, anche se dici no, io vado a fare un giro, e sulla spiaggia d'oro certo troverò, qualcuno che mi dia un po' d'amore caldo, e se vuoi non lo trovo sono caldo io. Poi chiederò un gelato al cioccolato, e senza te quel gelato mangerò, mi farò fare una coppa alla marena, e anche da solo io mi divertirò. Un giorno al mare un gelato al cioccolato, è come un oasi nel deserto del Sudan, un giorno al mare un gelato al cioccolato, e le ragazze diranno sempre sì, oh no, sì, oh no, sì, oh no, sì, oh no, sì, oh oh no, che differenza fa, oh sì, oh no, il mare è ancora qua, oh sì, oh no, che differenza fa, oh sì, oh no, il mare è ancora qua, anche se dici no, io vado a fare un giro, e sulla spiaggia d'oro certo troverò, qualcuno che mi dia un po' d'amore caldo, e se vuoi non lo trovo sono caldo io. Poi chiederò un gelato al cioccolato, e senza te quel gelato mangerò, mi farò fare una coppa alla marena, e anche da solo io mi divertirò. Un giorno al mare un gelato al cioccolato, è come un oasi nel deserto del Sudan, un giorno al mare un gelato al cioccolato, e le ragazze diranno sempre sì, oh no, sì, oh no, sì, oh no, sì, oh no, sì, oh no.